Dal 31 maggio al 2 giugno Napoli ospita Tattoo Expo, il più grande festival del Mediterraneo interamente dedicato al tatuaggio e alla street art. L'evento si terrà negli spazi della mostra d'oltremare e si propone di trasformare la città nel più grande luogo d'incontro per talenti del tatuaggio ed appassionati dell'arte urbana a livello globale. Tre giorni offriranno ai partecipanti un'esperienza unica con esibizioni artistiche, musica e creazioni sperimentali. Sono attesi per l'occasione oltre 400 tatuatori di affermati studi locali, nazionali ed internazionali pronti ad esibire le loro opere d'arte sottopelle. Siamo lieti di riportare un evento come questo a Napoli perché mancava da ormai sei anni e una città come Napoli non poteva non avere un evento artisticamente parlando così di una risonanza abbastanza ampia. L'evento si terrà 31 maggio 1 e 2 giugno alla mostra d'oltremare dove 430 artisti di fama internazionale daranno sfogo alla loro arte. In contest ci sarà del cibo tradizionale e internazionale, ci saranno attrazioni back to the style, dj uncino, ci saranno tantissime di quelle attrazioni che purtroppo non abbiamo potuto prendere altri tatuatori, altrimenti sarebbe stato un evento abbastanza clamoroso per tutta la città di Napoli. Al termine di ogni giornata saranno premiati da una giuria di 32 artisti tatuatori di fama internazionale i lavori più belli realizzati dagli iscritti al Tattoo Contest realizzati nelle diverse categorie.